L'avvertenza Gela si sposta dinanzi all'ufficio delle entrate, questa mattina sit-in da parte delle organizzazioni sindacali e di alcuni lavoratori, un presidio che ha un obiettivo ben preciso. Abbiamo fatto una serie di proposte, tra cui anche al Consiglio Comunale per quanto riguarda le tasse, perché io vorrei capire come un lavoratore che da quattro mesi non percepisce nessun reddito, tra le altre cose c'è un futuro nebuloso perché c'è l'incertezza occupazionale e non si sa quanto entreranno probabilmente nella migliore ipotesi a lavorare questi lavoratori, come potrebbero andare a pagare le tasse, perciò sull'avvertenza Gela deve essere anche messo un punto chiaro che sia anche quello della sospensione, di una dilazione, fino a quando c'è un pochettino di un momento di distasi per dare una serenità quantomeno occupazionale per i lavoratori, perché allo stato attuale si parla di Imo, si parla di tante tasse, si parla di Muti, ma questi padri di famiglia come debbono fare? I lavoratori che rivendicano il diritto sacrosanto al lavoro, perché col lavoro si dà dignità a ogni cittadino e di conseguenza può pagare tranquillamente le tasse, se questo non avviene come può fare un lavoratore a pagare le tasse se non ha un reddito? Nella nostra richiesta al Ministero era questo, prima il lavoro, poi il resto, quindi se non c'è questo siamo alla disperazione. Noi oggi siamo davanti all'Agenzia delle Entrate purtroppo perché l'Agenzia rappresenta lo Stato in cui si pagano tutte le tasse, oggi chiediamo un'attenzione nel riguardo ai lavoratori e all'indotto e tutto il comprensorio di Gela, in questo momento perché siamo in serie difficoltà e stiamo cercando di ammortizzare un problema che è diventato serio e problematico e chiediamo l'intervento dello Stato serio, non scherzando. La situazione occupazionale a Gela si è fatta difficilissima? Vado avanti così, alla giornata sono depressato, come infatti quest'anno sono stato sfrattato e quindi c'è un anno che senza avere soldi, e ora non so proprio cosa devo fare. Però le tasse da pagare arrivano sempre? Sì. E come fai? Non posso pagare, non li pago, non pago niente, perché non ho lavoro purtroppo non c'è niente.